Leave your head, I wanna see you Don't be scared to show your face Cause you're as beautiful as heaven And always confident in this face Ci troviamo qui a Pont Canavese in parrocchia con Donaldo e con Eugenio Renaudo per parlare di un evento molto particolare che si terrà nel periodo di Pasqua e che riguarda la Passione di Cristo Donaldo, è un evento, un'iniziativa che non è nata di recente ma è ripresa ma ha radici comunque, non dico antiche, ma vecchie, dagli anni Ottanta risale Allora è nata nell'83 ma era nata così come una cosa abbastanza semplice insomma rifare in qualche modo la Passione con dei figuranti, con dei nostri compaesani è una cosa nostra e poi in anno in anno la cosa si è ingrandita sempre di più il gruppo delle persone che partecipavano alla realizzazione della strada della croce siamo andati avanti per un bel po' di anni, fino al 95 e poi ecco si erano fermati anche perché la cosa era diventata grande il personale, i costumi, attrezzature varie insomma che poi nell'arco degli anni si era cercato di avere tutto questo materiale tanti hanno collaborato, devo dire, veramente tanti con impegno, con disponibilità massima proprio era stata una cosa molto bella e questa veniva fatta ad Oltre Soana fin su a Santa Maria dove poi la crocifissione si svolgeva nel grande prato che si presentava anche molto bene come scenografia e poi ho detto ma forse è meglio che ci fermiamo un attimo e ci siamo fermati abbastanza ci siamo fermati fino a poi nel 19 quando un buon gruppo ancora di quelli che avevano iniziato e altri che si erano aggiunti e abbiamo detto beh riprendiamola riprendiamola e ci ho ripensato un po' di volte ma anche dico rimettere su una cosa del genere era un po' comunque niente quando ho visto la buona volontà l'interesse e il desiderio di rifarla l'abbiamo rifatta in maniera un po' diversa cioè come ambiente perché sua Santa Maria era diventato impossibile la cosa l'abbiamo studiata per realizzarla qui in San Costanzo una prima parte e poi la seconda parte quella che riguarda più direttamente quella crocifissione e l'abbiamo fatta fuori da San Costanzo e abbiamo visto che si presenta bene sia San Costanzo come la parte esterna e poi si conclude all'interno con l'incontro di Gesù con gli Apostoli il giorno della risurrezione questo lo facciamo sempre al venerdì santo una cosa che ci teniamo a dire lo diciamo sempre non vuole essere uno spettacolo tante parti fanno queste sacre rappresentazioni io dico sempre vorrei che diventasse quasi una liturgia una cosa che siamo rimasti impressi e lo può confermare Eugenio a un certo punto tutti i partecipanti escono per vedere la parte esterna l'abbiamo detto all'inizio mi raccomando non si applaude assolutamente silenzio religioso ed è stata una cosa commovente veramente come la gente ha partecipato ha vissuto non soltanto come spettatori ma ha sentito io credo davvero un qualcosa di straordinario di grande di bello che è il riproporre come riflessione quel mistero della salvezza Cristo morto e risorto e quindi questa strada della croce che noi rinnoviamo l'abbiamo ripresa nel 19 poi purtroppo la pandemia sappiamo non ci è stato permesso e per cui quest'anno abbiamo ripreso con tanta buona volontà da parte di tutti e quindi ci auguriamo che anche quest'anno questa strada della croce ci aiuti a riflettere a pensare che questa strada della croce continua nella storia guardiamo quanto sta accadendo nel mondo situazioni di povertà di situazioni di guerre di violenze ecco la povertà ecco in fondo è la passione di Cristo che continua nella storia fino alla fine dei tempi Cristo continua ecco a essere presenti in mezzo noi soprattutto in questi momenti di sofferenza di dolore di morte ma sempre con questo sguardo al di là del venerdì santo dove l'alba della risurrezione spunta sempre perché il Signore risorto è sempre con noi riprende quindi quest'anno dopo la pandemia e tra le persone tra i fautori che hanno voluto comunque ricominciare questa liturgia chiamiamola quindi non rappresentazione nel 2018 2019 c'è stato Eugenio Renaudo che è un po' tra gli ideatori e l'ideatore qualcuno mi ha detto l'ideatore anche se lui non vuole mettersi in primo piano ha aiutato poi da Maurizio Rastello e da altre persone è impegnativo sicuramente impegnativo sì è una cosa impegnativa perché se diciamo come hai detto te Maurizio è stato il regista di è il regista di questa rappresentazione e fin dai tempi come diceva Donaldo quando ero piccolino io ho iniziato da piccolino a fare il paggetto nel sinedrio di Caifa poi pian pianino crescendo non si poteva più fare il paggetto un anno la guardia sempre nel sinedrio poi ho iniziato a fare l'accusatore nel sinedrio e poi si è stoppata come ha detto Donaldo e nel 2019 quando tutti i giorni con il Don abbiamo cercato di coinvolgere Maurizio a di nuovo riprendere con altre persone che ci hanno aiutato quando abbiamo deciso i personaggi Donaldo che faceva Ponzio Pilato negli anni non l'ha più fatto e abbiamo fatto questo cambio sono passato dal sinedrio sono passato al governatore di Roma a fare il governatore Ponzio Pilato nella passione di Cristo mi ha fatto piacere soprattutto perché è stato lui a scegliermi ma soprattutto il legame che ci lega finché ero da bambino con lui e mi ha fatto piacere sostituire lui lui è andato a fare la voce di Gesù e io ho preso il suo posto è un lavoro immenso perché abbiamo dovuto riprendere delle strutture lavorare lavorare delle sere ma va bene perché abbiamo un bel gruppo di persone che ci aiuta nelle scenografie e poi abbiamo di nuovo creato un bel gruppo di persone per ripartire siamo stati fermi l'anno questi anni per la pandemia eravamo partiti con delle strutture nuove per il 2020 poi con la pandemia siamo stati costretti a fermarci questi anni abbiamo quest'anno abbiamo delle strutture nuove abbiamo delle scenografie diverse dagli anni precedenti e la novità che i tre incontri di Gesù che fa con la madre con la Veronica e col Cireneo vengono fatti tutti e tre esternamente quest'anno si farà la parte principale sarà di nuovo in chiesa e poi si uscirà di nuovo e i tre incontri verranno dalla partenza del parco Manzoni uscendo incontrerà la madre un po' più avanti dove c'è il monumento della Croce Rossa incontrerà Veronica salendo verso San Costanzo incontrerà il Cireneo e poi si farà di nuovo la crocifissione fuori dalla dalla chiesa con uno scenario nuovo e poi si rientrerà di nuovo per la risurrezione che sarà che sarà in chiesa lo spirito perché siamo partiti continuo a rifarlo perché tante persone che non ci sono più che sono mancati ci hanno lasciato questa cosa nel cuore perché poi erano persone che ci credevano e ci facevano credere anche a noi di continuare perché è stata una bella cosa pensare a un paesino piccolo come Pond che riesce a fare questo questo evento diciamo religioso e soprattutto come dice Donaldo un evento proprio cristiano proprio il venerdì santo la morte di Cristo che poi risorge per salvare tutti noi peccatori ci dispiace che nell'anno il 2019 venire a oggi due personaggi che c'erano nel 2019 ci hanno lasciati e ci dispiace perché erano soprattutto Silvia Querio negli anni quando ero piccolino faceva già parte e anche Marco Gallino che aveva fatto il sommo sacerdote e anche lui in questi anni sono mancati tutti e due vogliamo fare un ricordo loro e un ricordo soprattutto anche a chi ha ideato questa cosa che in questo momento non sono più tra noi ma di sicuro da lassù sono contenti che rifacciamo queste cose che loro credevano e noi abbiamo continuato nel loro cammino certo un evento commovente un evento riflessivo che si terrà quindi il venerdì santo a che ora diamo qualche indicazione alle 21 alle 21 ci auguriamo anche che il tempo ci permetta di poter fare anche la parte esterna perché se no sarebbe un po' un problema però è anche pensabile questo per cui siamo attrezzati in modo da poter svolgere comunque tutta la sacra rappresentazione nel miglior modo possibile e ci auguriamo che davvero questa sacra rappresentazione lasci nel cuore di tutti qualcosa in mezzo alle cose che non vanno bene in questo mondo così in subbullio che abbiamo bisogno di speranza e credo che rivivendo il mistero della passione morte e risurrezione di Cristo lì possiamo davvero attingere la vera speranza l'unica che ci sostiene che può cambiare veramente il mondo e su queste parole non mancate il Venerdì Santo a San Costanzo a Ponte Canapese a San Costanzo